Ciao ragazzi, oggi iniziamo il calendario dell'Avvento. Vediamo se tiriamo fuori dal sacchetto. Il regalo di Natale. Oggi iniziamo con una storia. Siete pronti? Il regalo di Natale. Natale era alle porte e non avevamo ancora trovato il regalo per la maestra. Gaspare voleva regalarle un fucile perché ne aveva due o i pattern ricevuti in regalo l'anno prima, ma poi ci siamo detti che non andava bene. Per fortuna mi è venuta un'altra idea. Siccome la maestra viene a scuola in bicicletta e quando piove si bagna sempre, potremmo confezionarle una mantella impermeabile. Era davvero una buona idea. E a casa avevamo tutto il necessario. Abbiamo messo una sedia dentro la vasca. E abbiamo staccato la tenda dalla doccia. Gaspare è salito su uno sgavello per fare da modello. Così era alto quasi come la signora Baldi, la maestra. Non sapeva dove erano ago e filo, ma per fortuna ho trovato della colla. Finito, ho detto a Gaspare. Puoi toglierlo adesso. Solo che era impossibile. Avevo messo colla dappertutto. Per fortuna mi è venuta un'altra idea. Non è grave, dopo la incolleremo. La nostra mantella era riuscita davvero bene. I genitori di Gaspare, però, non dovevano capire che avevamo usato la tenda dalla doccia. Dobbiamo tingerla, ha detto Gaspare. È facile, basta metterla nella lavatrice. Abbiamo trovato il colore giallo e abbiamo acceso. Quando l'abbiamo tirata fuori, disastro! Era ancora rossa, ma dieci volte più piccola! Che cosa terribile! Non andava più bene nemmeno a Gaspare. Ma io sono furba. Se facessimo dei buchi nel cappuccio, sarebbe sempre troppo piccola per la signora Baldi. Ma andrebbe benissimo per Emilio. La signora Baldi è stata molto contenta. E anche Emilio. E abbiamo giurato di non dire mai niente sulla tenda della doccia. Ecco ragazzi, vi è piaciuta la storia? Noi ci vediamo domani, sempre alla stessa ora. Ciao!